Salve amici appassionati di Football Manager, qui con me se è piaciuto Mike 94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di un nostro Football Manager 2017 con il nostro mitico Reus e oggi andiamo a vedere le partite con il Cordoba e il ritorno di Coppa del Rei contro l'Atletico Madrid Prima di andare a vedere la partita vi mostro un paio di cose, fra cui la partita che vi ho saltato, cioè quella con Luciam Stranamente vinta 1-0, gola all'89 di Major, veramente urlato come se non ci fosse un domani Vabbè più che altro sono stato molto molto felice perché è una partita che dovevamo assolutamente vincere, è stata bruttina insomma L'abbiamo ripresa solamente all'ultimo secondo, è la settima partita in campionato che vinciamo di seguito 1-0 Io non so se è un bug, sinceramente mi sto iniziando pure un po' a preoccupare, fatemi sapere anche voi se vi è mai successa una cosa del genere Sinceramente 7-1-0 è un po' strana come cosa Oltre a ciò abbiamo firmato il rinnovo del contratto, vabbè direi che era più che scontato per gli ottimi risultati che stiamo avendo E devo dire la verità sono riuscito a prendere un po' di soldini, non tanto per me perché diciamo che, anzi ho messo il minimo di stipendio Perché di quello che guadagno non me ne può fregare di meno, se alla fine mi devono esonerare, lo possono fare anche con due spicci Non me ne frega più di tanto, mi interessa più che altro dare i soldi alla squadra Cosa che ho ottenuto, infatti il budget è stato aumentato, quello dei trasferimenti di circa 150.000 euro Ma addirittura quello dei Montengagio è stato aumentato di un milione Mica male perché prima avevamo tipo 5.300.000 e adesso ne abbiamo 6 Quindi veramente tanta tanta roba e ringrazio infinitamente la dirigenza E ovviamente anche il presidente Ultimissima cosa, Jorgen Diaz per la tipo quarta volta ha chiesto di terminare il prestito E qui veramente non ha voluto discutere niente, c'era intenzionato ad andare via E sinceramente pure qua, io ho accettato di terminare il prestito e sinceramente pensavo che se ne andasse subito Senza che io facessi niente, invece no, è ancora in squadra Quindi devo terminare io il prestito e devo dire la verità da un po' bastardo Per il momento non lo termino, ma non perché lo voglio avere Perché sinceramente avere un giocatore scontento non ha molto senso Ma voglio tenerlo almeno fino a gennaio, quindi per un mesetto Perché poi semmai col mercato possiamo trovare qualcuno per sostituirlo Però effettivamente potremmo anche non sostituirlo Perché comunque è un giocatore che ha fatto sia in due partite Quindi potremmo rimanere anche così Però ragazzi, comunque poi vedremo il mercato cosa ci offre E soprattutto di mercato ne parleremo soprattutto nell'episodio prossimo Oggi giochiamo con Coppola, Garcia perché Noble ha se squalificato Tienza, Babic, Campis, Do, Guzzo, Debaru, Sain, Carbia e Maior Perché purtroppo Crisantus è infortunato Infatti oggi non lo vedremo proprio E siamo i favoriti, cerchiate di impressionarmi Perché effettivamente potremmo vincere senza troppi problemi Il Cordoba è una buona squadra, veramente non si può dire niente Però noi abbiamo fatto grandissime cose Abbiamo paraggiato con l'Atletico Stiamo facendo un campionato veramente ottimo Quindi potremmo in teoria prendere subito calcio di rigore E far segnare il Cordoba Dando un bel regalo a soli 6 minuti Complimenti Campis Sono quelle cose che proprio ti fanno bene al cuore e all'anima Dai Coppola fa un miracolo Che sinceramente Puoi fare meglio Puoi fare meglio e lo farò di meglio Grandissimo Grandissimo rigore sbagliato Però ragazzi svegliamoci Concentriamoci e non regaliamo queste cose al Cordoba Perché insomma ci manca solamente perdere per nostre stronzate Per fortuna loro ci hanno fatto un gran regalo Però noi non ne facciamo altri Perché non è Natale Pasqua è pure passata Quindi insomma non facciamo più regali Anzi cerchiamo di prenderci qualcosa Di prendere i tre punti Anche se devo dire la verità Il primo tempo non mi è proprio piaciuto E quindi lo dico ai ragazzi Scene in campo è dimostrata di meritarvi quei complimenti Credo che sia la cosa più giusta da dire Perché insomma Devono fare sicuramente meglio per il momento Una loro solo azione Causata da noi e noi basta Per fortuna attacchiamo con Guzzo Costa al centro E c'è grandissimo Babic Grandissimo Che oltre a un grandissimo difensore Si sta dimostrando veramente Un buon colpitore di testa Anche un buon goleador Infatti ha la terza rete stagionale Qua assist di Atienza Bravo così Però ragazzi Non facciamo più cappellate per favore Perché vorrei portare a casa L'ottavo risultato sull'1-0 Sarebbe una gran figata E una cosa proprio nonsense Però sti cazzi C'è Campis C'è Carbiac Campis ti perdono Giusto perché sei tu C'è Carbiac con un saltino supera tutti E c'è anche Usain Che sblocca l'1-0 Andiamo sul 2-0 Finalmente Non ci sarà l'ottavo 1-0 In campionato Ma ci sarà un 2-0 E sinceramente Mi fa molto più piacere così Guardate Carbiac Che stile Che classe Grandissimo anche Usain Che Diciamo Inizia a mettere un po' di puntini sulle I Certo Un 2-0 al 63esimo E' già un ottimo risultato Però non possiamo assolutamente Deconcentrarci Perché Il Cordoba può fare tre pere In tre secondi Insomma Quindi Concentriamoci Ok Buttiamoci Miramon Sì mettiamoci Miramon Stavo pensando A fare una battuta Perché Luis Enrique Ha detto Il Barcellona Può fare tre gol In tre minuti Insomma Non l'ha proprio dimostrato Ciò E speriamo che Non lo dimostrerà Nemmeno il Cordoba Ecco Lo so Una scemenza Però Mi era venuto Quello in mente Le parole appunto Di Luis Garcia Mettiamo Eh Luis Enrique Scusate Mettiamoci anche Samba Di Akite Un giocatore un po' più Difensivo Un po' più fisico Sicuramente ci potrà Dare una grossa mano In questi minuti Che comunque Bene o male Dobbiamo difendere Siamo all'ottantatresimo Ottantacinquesimo Vabbè Finita credo La partita Mancano due minuti Sì vabbè Attacchiamo ancora noi Ottima la partita Il primo tempo È stato veramente pietoso Ma il secondo Forse anche grazie Alle parole Che abbiamo detto Alla squadra Si sono svegliati Hanno fatto Un ottimo Secondo tempo Un ottimo 2 a 0 Vedete comunque Pallina è nostro Sia del possesso Sia dei tiri Sia dei tiri in porta Come potete ben vedere Siamo a secondi Ma pari punti Con Levante Chi se lo aspettava Siamo addirittura Più 9 dalla seconda Assurdo Cioè Veramente assurdo Non me lo aspettavo Una cosa del genere Io ripeto Il mio obiettivo È sempre arrivare Sesto E devo dire la verità Che Ci sono buone probabilità Di arrivarci Per quello che Stiamo facendo Perché comunque La settima È a 16 punti da noi Lo so che ci manca ancora Tutto il girone Di ritorno Però insomma Come ho già detto I puntini su lei Le stiamo mettendo Detto ciò Andiamo a vedere Fra poco La partita contro L'Atletico Madrid A frappè Ed eccoci qui Per vedere Il sedicesimo Di finale Gara di ritorno Di Coppa del Re Contro l'Atletico Madrid Speriamo in un miracolo Speriamo in un miracolo Sono una partita Ragazzi Difficilissima Se non impossibile Ma noi come sempre Daremo il 110% Per provare Il miracolo Contro il Tenerife 2 a 2 Ovviamente ragazzi Non si può sempre vincere Ma Comunque faccio mea colpa Perché mi sono affidato A tutte le riserve Che questa volta Non hanno portato a casa I tre punti Però insomma Abbiamo ugualmente pareggiato Facendo una partita Veramente molto brutta Loro hanno segnato Dal 43esimo Noi due gol all'ottantesimo Poi veramente Disattenzione totale Ci hanno segnato Dopo appena Un minuto Quindi insomma Partita che Brutta Partita da Dimenticare Anche se È solamente un pareggio Ma il Tenerife Non era Il Barcellona Non era il Levante Quindi potevamo Assolutamente batterli In più Jorges Diaz Ha chiesto per la quinta volta Di andare via A questo punto Mi sono un po' Scocciato E ho effettivamente Poi terminato il preside Infatti non è più in squadra Ma ragazzi Ovviamente Non aveva più senso Tenerlo Mi era un po' Anche scocciato Di Fagli promesse Che non avrei mai potuto Mantenere Loro giocano con Moia Lucas Godin Savic Juanfranco Gabi Saul Versalico Torres Griezmann Quasi tutti titolari E questo mi fa Veramente piacere Ovvio il vero titolare Cerci non c'è Ma questa è un'altra storia Poi noi giochiamo con Coppa La Nobile La Statienza Babic Campiz Do Guzzo Tebar Usain Carbia E Major E speriamo bene Ovviamente ragazzi Ripeto sarà una partita Molto molto difficile Se non impossibile Ripeto le mie stesse parole Però I miracoli esistono Già abbiamo fatto Un miracolo All'andata in casa nostra 2 a 2 Quindi godiamoci la partita Senza veramente Alcun tipo di pressione Senza aspettative Però insomma A me basta Non prendere 7 gol Poi Sono contento così Voglio comunque fare Una figura discreta Qui a Madrid Sarebbe già grandissimo No E così è troppo Però 30 secondi Per mettere in mostra Il mitico Carbia Vabbè Qua Qua proprio Calcio Spettacolo Veramente Scambio Griezmann Carbia Ci andiamo a perdere Grandissimo 1 a 0 Risultato che porterebbe Noi Agli ottavi di finale Ma ragazzi La vedo dura La vedo molto dura Attaccano loro No C'è Babic Che la spara avanti C'è Savic C'è Saul Saul per Torres Torres Bravissimo Guzzo Di grandissima esperienza Anche se è un giovinasso C'è Carbia 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 che vuole dimostrare Di essere Il Messi Della Liga Adelante C'è Griezmann Che attacca C'è anche Torres Che è indiavolato Infatti Ci purga Così Torres Anche se oggi Non abbiamo le magliette Rosso nere Comunque Vede rosso Come i Tori E quindi Gioca al meglio E ci purga Sempre Quanto pare Torres qui È molto molto forte Nulla da togliere A Torres Reale Però Qua Gioca addirittura Titolare E in più Vabbè C'è stato anche Il rimpallo Di un nostro difensore Quindi c'è Poco da dire Poco da fare Attacca ancora Atletico Madrid Diciamo che L'1-0 È stata una loro Grande disattenzione Però sicuramente Vorranno fare meglio Infatti Stanno giocando Molto molto bene Anche se per fortuna Per il momento Lo stiamo tenendo Ma La vedo dura Infatti c'è ancora Torres Che come vi dicevo Vede rosso E segna La sua personalissima Doppietta 2-1 Atletico Madrid Facendo un gol Noi Andremo ai tempi supplementari Sarebbe veramente Tanta tanta roba Ma La vedo difficile Io Incoraggio la squadra O meglio Vabbè Non incoraggia Va più che bene Anche se Ancora Atletico Madrid Attacca Peccato Eravamo partiti a razzo Poi Poi loro Ragazzi Non c'è niente da dire Poi c'è sto Torres Che porca miseria Da dove tira tira Fa bene E quindi Quindi niente Speriamo di Di Concentrarci un po' di più Anche se C'è Atletico Madrid Che attacca ancora Con Griezmann Cross al centro C'è Tienza Per fortuna Non c'era Nessuna al centro C'è Saulo C'è Versalico Adesso c'è pure Torres Al centro Facciamo una gabbia Su di lui Stiamo in 43 Perché è infermabile C'è Gabby Gabby di tacco Per Griezmann C'è Cook Cook per Lucas Lucas sulla sinistra C'è Griezmann Tutto solo E qua Coppola Dimostra tutti i suoi limiti Ragazzi In me Coppola Sinceramente Non dà troppe sicurezze L'anno prossimo Sicuramente Va cambiato Ecco Per quest'anno Va più che bene Perché Di portieri forti Non c'è in giro Come già vi ho detto Lui era il migliore Ma l'anno prossimo Si punta tutto Su Donnarumma Ovviamente Sfrutto Vedremo un po' Il mercato che ci offre Anche se qua L'Atletico Madrid Attacca ancora Con Versalico Sulla testa E dai ragazzi Però qua Veramente arrivano I 7 gol Da me Temuti C'è Saulo C'è Gabby C'è Cook Griezmann Griezmann Cook Incorrano loro C'è Griezmann No ragazzi Che cacchio Sta facendo Coppola C'è lo so Che Griezmann È forte Ma non credo Che manco tenga Il tiro della tigre Di Mark Lenders Che Fa entrare il portiere In porta Qua più o meno Questo è successo O meglio Coppola L'ha buttata dentro Con molta Simpatia Dai ragazzi Però Prima vi ho incoraggiato Ma mo concentratevi Che stiamo facendo Stiamo Accogliendo funghi Dagli eh Veramente Bruttissimo primo tempo Lo so È l'Atletico Madrid Ma qua Coppola Colpevolissimo Porca miseria Mi aspetto Uno spettacolo Che era lunga migliore Non è che dobbiamo vincere Stata partita Ma Almeno usciamo A testa alta Cioè Non facciamo figure Barbine Perché poi Io spero Che questa partita L'anno prossimo Si ripeterà Almeno due volte Almeno Lo spero Doble Yas Guzzo Guzzo Dai Eh no ragazzi Però Ma la difesa Dove è Stiamo in contropiede Perché stiamo tutti in attacco C'è Torres C'è Juan Fran Qua Si dischia la goleata C'è Saul C'è Griezmann C'è Cook Cook Versalico Versalico E vabbè E vabbè ragazzi Porca miseria 5 a 1 5 a 1 Mani davanti Da faccia Ci vergogniamo Di questa prestazione Porca miseria Ragazzi V'ammazzo Non arriviamo A 7 a 1 Se no Mi ritiro Abbandono la squadra Vado a allenare Leibar Dai ragazzi Però Cerchiamo di fare Il 5 a 2 Giusto per rendermi felice Giusto per Dare un senso A questa partita Brutta 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 Veramente Coppola Veramente Disastroso Qui Non so come faccia Avere voto 6.6 Per me 4 Massimo 4 regalato C'è Gabby Arriva al 6 a 1 Ragazzi Lucas Dai Cerchiamo di difendere Almeno Un'azione Difendiamola C'è Carbia Carbia che tiene palla Viene Savic Che lo ferma Dai a Carbia Però Carrasco 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 Bravo Usain Di Diciamo Si sacrifica Tornando indietro C'è Guzzo Che spara così La palla Dice a botanto Sti cazzi Abbiamo perso Effettivamente L'albito potrebbe fischiare Pure adesso Dai Dai Cerchiamo di fare Il secondo C'è Carbia Carbia che cerca Maior Ma c'è anche Usain Usain di tacco Per Tebar Ancora Usain E dai così 5 a 2 Sa soddisfazioni Usain A Madrid Fa il gol Poi vabbè Prende palla Cerca Di correre al centro Perché sperano un recupero Cosa che io Dubito fortemente Però Almeno aver fatto Il 2 Il secondo gol Da un po' più di respiro Ci fa comunque capire Che La squadra Non sarà Barcellona Ma nemmeno I più scarsi del mondo Intanto c'è Guzzo Che è un po' stanchigno C'è anche Usain che è un po' stanchigno Mettiamo Vitor Silva Perché se no Mi bestemmia contro E basta Perché comunque Guzzo potrebbe Non so perché Mo Di Akite Che Vitor Silva Stanno un po' male Perché comunque Hanno giocato Contro Altri gol Mi fa proprio male Vedere già 5 a 2 Ha un brutto risultato Ma poi E porca miseria Versalico Torres 6 a 2 Dai Camero Camero E vabbè Coppola Ma porca miseria Porca miseria Coppola Ne avessi parata Una Una Minchia Sarà la tensione Dello stadio Non lo so Sarà il tavernello Bevuto prima della partita Per cui Ha giocato proprio male Vitor Silva Spara in al centro Finisce 6 a 2 Capochino Assolutamente Capochino Assolutamente Ma io sono aggressivo Ragazzi Non sono Felice La vostra performance Non del risultato Perché ci sta 6 a 2 Ci sta L'Atletico Madrid Ma non sono felice Della squadra Sì 12 tiri Possesso palla Ma Com'è possibile L'Atletico Madrid Ci ha fatto 6 gol Quando noi abbiamo Favuto più possesso Palla E più tiri Com'è possibile C'è qualcosa Che non è andato Assolutamente Vabbè Coppola Ha regalato Almeno 3 gol E vabbè Lasciamo perdere Però Insomma Dai Potevamo Assolutamente Fare meglio Detto questo Ragazzi Come già vi ho detto Nel prossimo episodio Non nello scorso Perché non riesco A tornare indietro nel tempo Ma nel prossimo Parleremo di mercato Poi ovviamente Nei prossimi Nei successivi Attueremo il mercato E continueremo ovviamente A giocare in campionato Sperando che non si ripetano più Queste partite Sperando che Coppola Si diano svegliata Io non capisco Questo 6.6 Veramente È assurdo Perché Per me è una partita Da 4 Comunque Lasciamo perdere Detto questo Io spero che questo video Vi sia piaciuto Nonostante questa brutta sconfitta Ma ragazzi Era inevitabile Era impossibile Da Da non Da non subire Ecco Come sempre Lasciate un bel like Commentate a manetta Condividete Anche a bomba Questo video Questo per permettere al canale Di crescere sempre di più Come sempre Grazie mille per tutto quello che fate Un saluto da Mecca94 Ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi E sempre ragazzi di tutto Ciao ciao Ciao